Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un incidente adesso risolto tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna è stato chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Rocco Bilaccio fino al 28 febbraio. Per la viabilità cittadina si ricorda che a Firenze è stato sospeso l'obbligo di spostare le auto in occasione della pulizia delle strade, no multe e rimozioni fino al 31 marzo. Infine vi rammentiamo che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali su gran parte delle strade della nostra regione. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!